Il Comune di Sant'Agata Libattiati informa attraverso l'URP della proroga fino al 31 dicembre del 2017 del protocollo d'intesa che prevede un quadro di interventi per favorire l'accesso al credito delle imprese femminili nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, ovvero della vita lavorativa delle libere professioniste attraverso la creazione di un plafond finanziario destinato alla concessione di finanziamenti. Sono destinatari degli interventi le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste e le piccole e medie imprese, a prevalente partecipazione femminile operanti in qualsiasi settore. I finanziamenti sono concessi dagli intermediari finanziari a condizioni competitive rispetto alla normale offerta nell'azione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio. Per avere ulteriore informazione è possibile rivolgersi agli uffici comunali.